All'amore di Dio l'uomo risponde con il peccato. Dio dona, dona dei valori molto importanti, dei valori naturali, la vita, l'intelligenza, la memoria, i sensi. Dà dei beni preternaturali, l'assenza della morte, delle malattie, del dolore. Dà i beni soprannaturali, la grazia, partecipazione alla natura divina, la gloria eterna. Quando noi siamo stati creati da Dio ci ha dato questa proprietà, questo curriculum che è grandezza. A prescindere da quello che abbiamo accennato dei doni naturali, ma basta pensare, destinati alla vita divina, a vivere con Dio, sempre, per l'eternità. Che immenso amore di Dio. E l'uomo come risponde? col peccato, col rifiuto. Abbiamo così qui anche ad un prato alla parabola del figlio prodigo. Il padre arricchisce il figlio e i figli non vogliono saperne di te, sbatte la porta e va via. Che cos'è il peccato? È un'offesa fatta Dio, disubbedendo alla sua legge. Ma è ancora molto più bella quest'altra definizione. Il peccato è mancanza di amore. O uomo, lasciati amare da Dio, lasciati curare le ferite, lasciati strappare dal tuo peccato, lasciati portare sulle sue spalle, lasciati fare festa per il tuo ritorno. Dio vive per noi, vive per ciascuno di noi, vive per me e per ciascuno di voi che mi seguite. Perché l'uomo non ama? Ecco qui. Non ama perché non conosce, non si è approfittito. Se noi vediamo il grado di cultura religiosa attuale, si rimane delusi, si sa appena qualcosa. E perché? Perché non c'è un cammino di istruzione, un cammino di conoscenza della nostra fede. Si pecca per orgoglio. Non serviam, non servirò. Sono libero e faccio quello che voglio. È l'orgoglio. E ancora, perché non rifletto su quello che è il mio essere sulla terra, quello che io devo fare, c'è magari l'arrivismo, c'è la pretensione di avere o grandi ricchezze o grandi titoli di onore sulla terra, ma siamo sempre a un livello minimo, povero, terreno. Non si ama Dio, che ci porta quindi in una spirale molto più grande. Non si riflette, Sant'Affonso Maria di Liguori diceva, ma perché non si riflette per mantenerci buone sul problema della morte, del giudizio, dell'inferno, del paradiso. Ecco, basta riflettere su queste parole e già rimaniamo scossi. E si muore. E per me cosa ci sarà? O sì, speriamo, il paradiso. Io pecco perché non prego. È la preghiera che ci mantiene lontano dal peccato. È la vita intima che ci crea lo stare insieme a Gesù. La vita dei sacramenti, la confessione, la comunione. Il fatto stesso che ci cibiamo delle carni di Gesù, siamo spinti ad amarlo. E Padre Pio raccomandava sempre, continuamente, e quando non potete fare la comunione sacramentale, fate la comunione spirituale. Cioè, Signore, viene nel mio cuore, ma non posso riceverti sacramentalmente e viene nel mio cuore spiritualmente. Allora è tutta una tensione, è questa tensione spirituale che ci mantiene lontani dal peccato. Padre Pio si offre vittima per il bene dei fratelli. Che cosa significa questa azione di Padre Pio? Soffrire, portare e soffrire per i fratelli perché essi possono fare un cammino spedito verso una santità di vita. Paga lui al posto dei fratelli. Ecco, Padre Pio che si offre vittima per la salvezza di tutti. Ecco, Padre Pio che si offre vittima per la salvezza di tutti.